Ciao, bentornato oggi sul canale Spettacoli Televisivi, con notizie come Maurizio Costanzo di Fede e Silvia Toffanin, rispondendo ad un'elettrice della sua rubrica su Nuovo TV Ecco cosa ha tuonato il giornalista e presentatore di Mediaset Silvia Toffanin negli anni è riuscita a ripagliarsi un posto speciale nel cuore dei telespettatori Da tanti anni al timone di Verissimo, il talk del sabato pomeriggio di Canale 5, la compagna di Pier Silvio Berlusconi ha visto crescere il successo del format, tanto che dall'anno scorso gli è stato raddoppiato l'appuntamento settimanale, confermandolo non solo al sabato, ma anche alla domenica È accaduto però che una telespettatrice abbia voluto dire la sua, come è giusto che sia, scrivendo a Nuovo TV, nella rubrica curata da Maurizio Costanzo Quest'ultima ha preso le difese della conduttrice.La telespettatrice critica Silvia Toffanin Una telespettatrice ha scritto a Nuovo TV, la quale, pur ammettendo di seguire piacevolmente Verissimo, ha criticato il modo di fare della padrona di casa Silvia Toffanin Spesso il sabato e la domenica lo seguo, mi piace guardare le interviste agli ospiti, sempre famosissimi, che siedono nel suo salotto televisivo Devo riconoscere che la conduttrice ha uno stile molto pacato, però mi chiedo se non sarebbe meglio, ogni tanto che si mostrasse un po' più frizzante, sullo stile di Mara Venier Queste le parole della signora, che si leggono sul settimanale Nuovo La risposta di Maurizio Costanzo.Non si è fatta attendere La risposta di Maurizio Costanzo, curatore della rubrica in questione, è sempre stata molto pacata nel suo modo di condurre E così funziona bene, ha sottolineato il marito di Maria De Filippi, che subito si è lasciato andare ad una nuova riflessione, se fingesse commetterebbe un errore e contraddirebbe persino il nome del suo programma, non trova? Ha chiesto Costanzo. Del resto potrebbe essere anche inteso come un suggerimento per la Toffanin, che alla fine ha cercato di essere sempre se stessa, magari lottando anche con la timidezza che la contraddistingue Ma le parole di Maurizio Costanzo non fanno che riflettere la realtà dei fatti Verissimo infatti è un programma che ha dei numeri importanti e non c'è alcun dubbio sul fatto che Silvia Toffanin faccia ottime ascolti Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie Ciao e ci vediamo nei prossimi video Grazie per aver guardato il video Grazie per aver guardato il video Grazie per aver guardato il video